Continua l'attività di controllo sul territorio da parte del personale della Guardia Costiera lungo la filiera commerciale dei prodotti ittici. Ancora una volta a intervenire nel territorio del Comune di Acireale, sono stati i militari della Delegazione di Spiaggia di Santa Maria la Scala, coordinati dall'undicesimo Centro Controllo Area Pesca della Direzione Maritma Etnea. A cadere nelle maglie degli ispettori è stato un venditore ambulante di molluschi bivalvi, nella fattispecie Telline, dal nome scientifico Donax Trunculus, che non è stato in grado di dimostrare la provenienza del prodotto, la cosiddetta tracciabilità. Per tale motivo, oltre alla sanzione amministrativa di 1.500 euro, il trasgressore si è visto sequestrare anche l'intero prodotto, circa 10 kg, che dopo essere stato sottoposto ad analisi da parte del personale veterinario della locale ASP, è stato riconosciuto non idoneo al consumo umano, pertanto immediatamente rigettato in mare la normativa vigente in materia di tracciabilità dei prodotti ittici che sancisce l'obbligo di fornire sempre, a qualsiasi livello della filiera, le indicazioni relative alla provenienza, allo scopo di tutelare la salute dei consumatori.